C'è una nuova musica da Acqua e Sapone! Collegatevi subito al nuovo canale Spotify di Acqua e Sapone con le playlist a tema. Cambia la musica, ma le offerte strepitose di Acqua e Sapone non cambiano mai. Andiamo! Le tavolette ViciNet Style Active sono a solo un euro, massima igiene e profumo continuo. E anche la linea di pulitori liquidi ViciNet da 700 ml è in offerta a 1,50 euro. Per una pulizia facile e veloce, prova la linea di sgrassatori Spray Smack Express, in promozione a 1,29 euro. Per un sorriso smagliante, prova Colgate. Solo da Acqua e Sapone tutti i dentifrici Colgate sono scontati del 40%. Prova il dentifricio Colgate Max Clean Microgranuli, che grazie ai microgranuli minerali pulisce la bocca e dona una sensazione fresca e piacevole. Colgate, il sorriso è la nostra forza. Sentito che offerte? Musica per le mie orecchie! Da Acqua e Sapone trovi cortesia, qualità e risparmio. Tutte le note giuste per uno shopping da numero 1. Acqua e Sapone, oltre la convenienza. Grazie a tutti! Grazie a tutti!